Arrestateli, arrestateli tutti! Questo vorrebbe il padre di Ilaria Salis, l'europarlamentare della sinistra italiana che, come sapete, è rea di aver occupato abusivamente una casa popolare. Insomma, il padre di Ilaria Salis annuncia un'ennesima querela nei confronti di giovani attivisti della Lega che hanno manifestato molto semplicemente e democraticamente, esponendo proprio questo striscione. Ora, dove si è reato ce lo deve dire il signor Salis, e poi da papà stai a guardare dei giovanotti che con uno striscione si lamentano di qualcosa e non ti preoccupi che tua figlia occupa le case. Ma, avendo letto tutto quello che il papà di Salis ha scritto in questi anni proprio contro l'abusivismo e la delinquenza, forse ora che la figlia è diventata europarlamentare lui ha cambiato idea. Comunque all'interno della sinistra italiana probabilmente hanno proprio il vizietto per l'abusivismo. Sì, perché quando la sinistra italiana si chiamava ancora Sel e aveva comunque sempre come guida un signore che si chiama Fratoianni, nel 2016 aveva occupato un immobile dell'Inps. Quindi Sel nel 2016 occupa un immobile dell'Inps. Nel bilancio Inps è stato segnalato un ammanco di 73 mila euro, oltre ad un'ammenda di 27 mila, per affissione pubblicitaria abusiva. Ora, sinistra italiana ha pagato come risulta dal bilancio 2023 per l'errore fatto. Peccato però che continui a difendere Salis, che ha un grave debito nei confronti dell'azienda delle case popolari milanesi. Ora che Salis è europarlamentare, sicuramente sarà in grado di pagare il dovuto dare, che secondo l'azienda di gestione di case popolari, ammonta addirittura a 90 mila euro. Tu cosa ne pensi?